E' giunta la quarta edizione, la mezza maratona nazionale denominata Corri e Lecce organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica GPDM per il 9 marzo prossimo. La gara podistica è stata presentata a Palazzo Caraffa dal presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica GPDM Simone Lucia e dall'assessore Attilio Monosi, presidente anche dell'Associazione Salento Attivo. La gara nazionale di chilometri 21 a 97, qui parteciperanno anche i corridori stranieri su un percorso di due giri completamente pianeggiante, interesserà il centro urbano di Lecce. Quest'anno una novità, sarà possibile effettuare la mezza maratona staffetta formata da due atleti, anche di società diverse, corralmente tesserati per il 2014, così da permettere a chi non ha i 21 chilometri nelle gambe di condividere le emozioni della gara insieme al serpentone della maratonina. È un evento riconosciuto a livello nazionale dal CONI ed è un evento agonistico al quale partecipano non soltanto corridori italiani ma anche stranieri europei ed extraeuropei, per cui veramente una vetrina importante alla quale non possiamo rinunciare e che diventa per noi uno dei tasselli fondamentali nella corsa al capitale europeo della cultura. Anche l'assessore ha i nastri di partenza. Il mio allenamento ormai ha compiuto già due mesi, per cui era una preparazione finalizzata non soltanto a essere nastri di partenza ma anche al nastro di arrivo, qualora si tagliasse un nastro ideale, per cui penso di aver maturato nelle gambe questi sei chilometri che mi consentiranno di non sfigurare.